Anche nel film che ho fatto questo tema del bullismo torna, diversi bambini ne parlano, naturalmente le forme di bullismo sono diverse, per bullismo intendiamo quando c'è non la presa in giro scherzosa ma c'è la sistematica demolizione della identità, della sensibilità, dell'equilibrio di un bambino ed è qualcosa sulla quale tutti devono vigilare, insegnanti, genitori e naturalmente i bambini stessi. Che cosa deve fare un bambino? Non deve stare zitto, non deve accettare, non deve considerare che sia normale, non è normale che dei bambini facciano del male anche psicologicamente ad altri bambini, le forme di bullismo possono essere diverse da quelle della violenza fisica a quelle della violenza in rete che non è meno, anzi talvolta è persino più grave. La vostra iniziativa è molto importante e sono contento di poterla aiutare mostrando questa maglietta. Buon lavoro a tutti voi!